Una passerella sull'acqua lunga quasi mezzo chilometro per consentire ai veneziani di onorare i propri defunti. A Venezia torna l'antica tradizione del ponte votivo che conduce al cimitero monumentale dell'isola di San Michele davanti alle fondamenta nuove. Mancava dal 1950. A quell'epoca era un ponte di barche, oggi dopo 70 anni di assenza la strada sull'acqua è tornata in una versione più moderna, in linea con le regole della sicurezza. Poggia su Zattere che sorreggono elementi modulari che a Venezia vengono già utilizzati in occasioni speciali come la festa della Madonna della Salute o il Redentore. Realizzata da insule lunga 407 metri e larga 3 metri e 60. Sul Corrimano sono predisposte lampade per l'illuminazione e al centro del ponte è previsto un varco alto 3 metri e mezzo e largo 10 per il transito dei natanti. Un evento significativo che è anche occasione di polemiche in questi giorni e non solo per i costi, 450 mila euro per una struttura che tra quattro giorni verrà interamente smontata, ma anche perché qualcuno ha visto in quest'opera una speculazione turistica, ovvero fatta per dare ai turisti la possibilità di visitare l'isola e il cimitero monumentale da una prospettiva originale con una passeggiata di 5 minuti sulle acque della laguna. Il cimitero è già di per sé oggetto di attrazione turistica, qui infatti oltre alle tombe e alle cappelle monumentali riposano personaggi illustri come Igor Stravinsky, Ezra Pound, Josif Brodsky ed Elenio Herrera. Il comune ha così emesso un'ordinanza per cui la struttura potrà essere utilizzata per i primi quattro giorni comprensivi delle festività dei defunti dai soli veneziani o dai possessori di carta Venezia, mentre i turisti o quanti invece non hanno i requisiti richiesti potranno farlo come tutti i giorni con i mezzi acque ai pubblici. Per maggiore sicurezza vigilante se una pattuglia acque assorveglieranno costantemente la struttura che sarà accessibile fino a un'ora prima della chiusura del cimitero che durante la settimana chiude alle 17 nei giorni feriali alle 16.30. Il ponte ha un significato che va oltre i primi di novembre, ha detto il sindaco Luigi Brugnaro inaugurando con il patriarca di Venezia Francesco Moraglia il ponte. È un omaggio ai nostri defunti ma anche un tentativo di risvegliare la città.